Per un fatto organizzativo, tutti quelli che stanno di qua devono andare di là, spostatevi. Sono arrivati a Carbonara, prima di cominciare volevo lasciare un attimo la parola al vice sindaco che ci ha raggiunto, ha avuto un problema familiare e quindi ha poche ore di sonno ma è riuscito comunque a stare qua con noi, non è venuto il sindaco e indegna rappresentanza. Antonio è un'altra delle persone che porta la croce rispetto all'eolico selvaggio, io lo dico io, è una mia affermazione, non tutti nell'amministrazione hanno preso a cuore come Antonio la questione anche se le dichiarazioni sono di tutt'altro tipo. Antonio è con i comitati ed è sicuramente in linea con le nostre aspettative e fa una battaglia all'interno dell'amministrazione anche se lui vi dirà che è tutta l'amministrazione a lavorare per questa cosa. Noi siamo riconoscenti ad Antonio per la vicinanza, la presenza e ovviamente per il portato istituzionale che ci offre, però la differenza la fanno sempre gli uomini e questa è la cosa che diciamo che occupa. Le istituzioni sono una modalità di istituzione, ma sono le persone che la vivifica. Faccio la parola ad Antonio che vi fa un saluto formale istituzionale e poi vi racconto dove ci troviamo. Buongiorno a tutti, sarò velocissimo anche perché devo andare via. Innanzitutto vi chiedo scusa per non essere arrivato al vostro arrivo in piazza, ma come Enzo vi ha anticipato per problemi familiari sono rientrato stamattina alle 6 e riparto fra qualche minuto. Quindi innanzitutto benvenuti ad Apilonia, avete visto scendendo qui un ottimo e un bel paesaggio, un territorio tutto da riscoprire perché purtroppo da un po' di tempo viene detruppato da quello che è l'eolico, l'eolico simbatico. Enzo vi ha anticipato, io sono molto vicino ai comitati, ma l'intera amministrazione, anche Sareso non è convinto, sta mettendo in piedi una serie di attività per bloccare questo scendio che sta avvenendo qui. Queste visite, questa presenza e questa mattina dimostrano quando la gente fina è legata al proprio territorio, alle sue origini e alle sue tradizioni e a noi fa molto piacere. Visiterete Credo Carbonara, dopo di che vi sposterete al Museo San Vito, il Museo Etnografico e poi tornati a rivivere un po' quella che era la civiltà contadina, un po' quello che era dei misteri di tecchi di una volta, di Apilonia, la vecchia Carbonara. Io vi auguro un buon trattenimento qui sul nostro territorio e una buona continuazione di giornate. Grazie. Grazie.